Una cosa che mi rende molto felice sono, oltre che i miei familiari, sono anche gli amici e le persone con cui sono attorno ogni giorno, dalla classe ai miei nipoti. Con loro, diciamo, anche se sono triste, riesco comunque a ridere, a scherzare, ad essere felice. Una cosa che ho imparato a scuola è convivere con la gente, perché un domani in un posto di lavoro sei, diciamo, in un ambiente con tante persone e la scuola ti aiuta anche a questo. E un'altra cosa è che in passato le materie per me erano tutte inutili, invece ho capito che sono tutte importanti. Per esempio la storia, o anche l'italiano, la matematica, il diritto, tutte queste materie qua importanti. Ti sono piaciute? C'è una in cui vai proprio, spacchi? No. Però ti piacciono queste qua? Dice, il diritto non tanto, però riconosco che è una materia importante. Mi piacerebbe fare il cantante, perché io vado a scuola di canto e comunque la musica mi piace e penso sia una cosa delle poche che non muore mai. e mi piace moltissimo. Riguardo al canto, dato che vado da un po' di anni a cantare, penso che siano bravi un po' a cantare, un pochettino anche al ping pong, a giocare un po' a calcio, mi diletto, diciamo. Non sono un chissà chi, però mi diverto e mi piace molto.